You make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak, Mr. Sackman. Una cosa che potrebbe andare sul video del Grest? Sono bravissimi! No, si vede che è molto... Ma rinerente al ballo in generale? Rinerente al ballo. Dico che... Diverscono. Mika il baristico si è impossessato di loro. Abbiamo tante Carla Fracci. Questo posto è tutto alto, è strano. E ci possiamo ritenere molto soddisfatte, presto le vedrete tutte alla scala. A ballare. C'è 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 c'è. E basta. Siamo comunque felici di aver fatto davanti questa esperienza. Dovete dire grazie e ciao. Dai, grazie e ciao.